Oh, mi scusi, cameriere? Sì, signore? È stato il miglior pasto che abbia mai avuto in vita mia. Lieto di sentirselo dire, signore, sono sicuro che lo chef... E quanto vuole per la vostra insegna d'uscita? Ma, mi scusi? L'insegna d'uscita! Mi gioverebbe acquistarla! T-temo di non capirla, signore. Vedi, ragazzo, quando godo di una piacevole serata al ristorante o al teatro, vorrei rimembrarlo acquistando l'insegna d'uscita del locale. Quanto vuole! Signore, andrebbe contro l'enorme antincendio vendere o rimuovere... Mi porti il suo manager. Sono pronto ad esporre un'offerta. Signore, l'insegna d'uscita non è in vendita. Se preferisce, sarò ben lieto di indicarle la compagnia che ce l'ha fornita e installata. No! Voglio proprio quella lì! Questo pasto è stato delizioso e voglio ricordarlo! Le darò 10.000 dollari! Signore, io non può... Ehm, cosa? Già, 10.000 dollari! Così potrete comprare tutte le insegne d'uscita di cui necessitate. Beh, credo che potremo sopravvivere per un giorno senza insegna d'uscita nel ristorante. Ok, allora, affare fatto! Oh, assolutamente sublime! Deo, è così noioso essere rinchi! Oh no! C'è mancato poco! Ora devo solo... Trovare... L'uscita. Oh no! Oh no! Oh no! 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 Oh no! Oh no! Oh no!